A Casella in Pittari prosegue l'inchiesta giudiziaria che ha travolto la scuola primaria. Due maestri continuano ad essere indagate per presunti maltrattamenti, ma una delle due ha potuto far rientro in classe. Con il nuovo anno scolastico ha rifatto ingresso a scuola Rosa Fiscina. Il Tribunale del Riesame infatti nei mesi scorsi ha annullato il provvedimento che la sospendeva per due mesi dal lavoro, consentendolo di tornare ad insegnare. Alla maestra Fiscina le è stata affidata una sola classe, dovrà impartire lezioni agli alunni di quarta. L'altra indagata, Rina Lovisi invece, ancora non ha possibilità di tornare nella scuola del piccolo comune salernitano. Su di lei continua a pesare l'obbligo di dimora a Padula, comune che ha scelto per risiedere fino a nuove disposizioni. Per determinate situazioni però può tornare a Caselle. Sul fronte delle indagini nessuna novità. Per la Procura della Repubblica di Lago Negro le due indagate maltrattavano i loro alunni con insulti e strattoni. La posizione di Lovisi fin da subito è stata quella più delicata. Nel fascicolo delle indagini ci sono anche le immagini riprese con le telecamere installate dagli inquirenti all'interno della scuola dopo la denuncia di alcuni genitori. Lunedì è iniziato il nuovo anno scolastico, tra feste e sorrisi, ma il ritorno in classe di una delle maestre indagate non è piaciuto a molti. Bisogna rispettare la decisione del Tribunale, afferma Serena il Preside Maria De Biase, che fin da subito ha lavorato per riportare un clima di serenità all'interno della piccola realtà scolastica.